anime privilegiate tratto da il paradiso di don giuseppe tomaselli se volessi passare in rassegna i santi e le sante che godettero in vita le dolcezze delle celesti visioni dovrei scrivere dei grossi volumi accenno soltanto a santa teresa d'avila a san giovanni della croce a santa maria maddalena de pazzi e a santa gemma galgani le visioni di quest'ultima sono raccolte in un volume autobiografia ed estasi non è fuori di proposito una parola sulle anime privilegiate gesù per convertire peccatori richiede sofferenze e amore generoso si degna a scegliere direttamente e personalmente delle anime che perciò sono dette privilegiate e con loro fa dei patti di amore richiede un cumulo di sofferenze di ogni genere fa dono dei dolori della sua passione trasporta talune di esse nell'ultre tomba temporaneamente perché soffrano nel purgatorio ed anche nell'inferno tuttavia gesù concede a tali anime gioie di paradiso facendo pregustare innanzitempo la beatitudine eterna per comprendere tutto ciò converrà a leggere invito all'amore josefa menendez e la biografia di santa margarita la coq di marta chambon della serva di dio suor benigna consolata ferrero di suor consolata petrone di lucia mangano gli anime privilegiate ce n'è anche al presente forse più di quanto si possa pensare l'ordinario gesù richiede che durante la vita siano nel nascondimento qualche volta ne permette la pubblicità come si constatò in teresa neumann la stigmatizzata di baviera e in padre pio nella sua infinita misericordia e per i suoi santi fini gesù ha permesso che lo scrivente sia a contatto con un'anima privilegiata e la diriga l'anima di cui parlo di cui non posso fare il nome soffre in modo indicibile e atto di carità aiutarla con la preghiera ma chi può dire quanto goda allorché gesù le lascia intravedere il paradiso riporto una scena avvenuta in questo stesso mese luglio 1955 mentre stendo queste pagine diario 2 luglio festa della visitazione di maria santissima recitavo le ultime preghiere erano le ore 22 mi umiliavo davanti a dio e baciai la terra all'improvviso la mia celletta si illuminò in un bagliore di luce vidi una bella signora temendo fosse uno scherzo diabolico da prima presi l'acqua benedetta ed aspersi la celletta la signora sorrise trovandomi ancora nel dubbio seguendo il suo consiglio la invitai a pregare della pregò bene anzi molto bene terminata la preghiera la signora continuò a sorridermi e avvicinatasi mi disse hai fatto bene non temere figlia mia sono la tua diletta mamma celeste fiorellino caro al cuore del mio figlio gesù tu spesso piangi non affliggerti tanto e non preoccuparti del tuo avvenire faresti un torto al signore egli ti custodisce e ti tiene sul cuore tutto dispone per il compimento dei suoi divini disegni la signora si inchinò mi accarezzò e mi baciò in fronte tenendomi stretta poi continuò le sofferenze le lacrime sono le gemme preziose che orneranno la corona nel regno dei beati ove tu figlia mia prediletta perdono gratuito della misericordiosa bontà del signore brillerai di gran luce io tua dolcissima madre ti aiuterò sino alla fine con materno interesse tu stimati fortunata di essere la sposa prediletta dell'onipotente mio figlio ma non insuperbirti per sì grandono anzi voglio che tu mentre da un lato consideri la tua dignità di sposa prediletta dall'altro le tue labbra ripetano le parole che io dissi alla mia carissima cugina elisabetta fecit mi magna qui potens est confesso la mia grandezza ma annunzio che è tutta opera dell'onipotente ripeti ancora le perle che mi adornano le ho ricevute da colui che senza mio merito mi ha amata egli mi ha eletta fra mille a lui a lui solo ogni onore e gloria questo sentimento di umiltà ti è necessario figlia mia come alla nave sono necessarie le vele e gli remi guai se ti appropriassi quello che non è tuo o il vento della superbia cominciasse a commuoverti tutto è frutto dell'amore misericordioso di gesù mio figlio che potendo scegliere tante altre anime forse migliori di te che avrebbero corrisposto con più fedeltà ha voluto scegliere te perché sei la più miserabile e se ne avesse un'altra più indegna di te l'avrebbe scelta la tua vita è stata spinosa e ringraziane gesù pregano incessantemente di darti la forza per continuare il doloroso cammino da lui tracciato per poter giungere là guarda in quel luogo padre mio che belle cose ho visto mi è sembrato di trovarmi già in paradiso era un'immensa distesa come il mare di cui non si poteva vedere il limite quanto sfolgorio di luce che non so descrivere e poi canti melodiosi e moltissime schiere di angeli attorno a gesù e numerose anime predilette una portava il nome scritto su una fascia attaccata al petto santa gemma galgani il mio angelo custode teneva pure una fascia con il mio nome furono momenti di paradiso che non so descrivere la madonna continuò in quel dolce riposo ti attendiamo io e mio figlio la fiducia l'amore a gesù e dalle anime la generosità l'ubbidienza la sofferenza continua e l'umiltà ti porteranno al regno dei beati mi sei cara e mi sarai sempre più cara se così sarai sempre ti benedico benedico tutti quelli che ti aiutano in questo doloroso cammino conclude il diario dopo questo colloquio per ubbidire al mio direttore spirituale mi sono messa al tavolino e ho scritto il mio angelo custode che mi stava a fianco mi ha aiutato per non dimenticare nulla a fianco di rifiore a fianco di rifiore a Grazie a tutti